Entriamo subito nel vivo di questo duello ravvicinato. Emilio Carelli, storico volto di Sky TG24, fondatore della prima All News italiana, oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle, Gennaro Migliore, oramai parlamentare di lungo corso del Partito Democratico. Con voi oggi affrontiamo le questioni che saranno sul campo del dibattito politico-economico da qui alla Varo della legge di bilancio. E partiamo proprio da quanto ha detto l'agenzia Fitch venerdì sera a mercati chiusi. Ha confermato il giudizio dell'Italia, BBB, ma con prospettive negative, di peggioramento. Ebbene, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, ministro allo sviluppo e al lavoro, alla festa del fatto, così ha replicato all'agenzia di rating. Lo sentiamo. Vorrei che si leggesse quel report di Fitch, attentamente perché lì dentro c'è un giudizio al decreto dignità, c'è un giudizio alla coesione del governo e mette in guardia da una legge di bilancio dicendo state attenti. Noi ci troviamo come governo al bivio storico. Scegliere se ascoltare un'agenzia di rating o mettere al centro i cittadini. Noi sceglieremo sempre gli italiani. Allora, Emilio Carelli, è giusto contrapporre prima gli italiani o prima il mercato? Perché se è legittimo avere a cuore la salute dei cittadini, non c'è il rischio che voltando le spalle ai mercati poi si danneggino proprio i cittadini più deboli. No, ma io adesso non è che posso contraddire il capo politico del Movimento 5 Stelle. Mi trova pienamente d'accordo in questa affermazione. Ma questo rientra un po' in quella che è la filosofia del Movimento 5 Stelle e di tutto il programma che abbiamo portato avanti nella campagna elettorale. C'è una filosofia che tende anche a, diciamo così, mettere l'equità sociale, la giustizia sociale e anche la solidarietà sociale al primo posto nel programma di governo. Allora, in Italia esistono 5 milioni di persone che faticano ad arrivare a fine mese, che sono sotto la cosiddetta soglia di povertà. Noi vogliamo introdurre nella prossima legge di bilancio il reddito di cittadinanza, che era un punto qualificante del nostro governo, che non è un premio ai fandulloni, lo abbiamo sempre precisato, ma è un modo per venire incontro a tutte quelle situazioni di persone, di famiglie, di giovani ancora disoccupati che vivono sotto la soglia di povertà e dare loro una dignità. Gennaro Migliore. Innanzitutto io vorrei dare un aiuto in questo senso al Movimento 5 Stelle, un provvedimento per le persone indigenti. C'è già, si chiama reddito di inclusione. Basterebbe ampliarlo e non cambiarne il nome dicendo che quello che si chiama reddito di inclusione diventa reddito di cittadinanza. Perché il Movimento 5 Stelle ha promesso un'altra cosa, ha promesso a chi ha una famiglia con tre figli di avere 1.700 euro al mese. Questo costerebbe tantissimi soldi e soprattutto non si sa dove trovarli questi soldi. Il motivo per il quale non è l'Europa quello che mette in difficoltà rispetto ai mercati ed è sbagliato mettere in contrapposizione mercati e popolo. Perché è il popolo che paga il prezzo dei mercati? Perché i mercati faranno sempre profitti. Il problema è che quando tu dici che ci vogliono tutto sommato, flat tax, reddito di cittadinanza, 100 miliardi di euro, questi soldi qualcuno li dovrà poi mettere sul piatto. E purtroppo saranno le persone che hanno mutuo, le persone che devono chiedere un finanziamento per la loro impresa e non si aiuteranno così i più poveri. Apro e chiudo parentesi. I famosi 5 milioni di poveri italiani, ricordatevi però che un milione e mezzo di questi sono stranieri perché altrimenti anche quando si dice prima i poveri italiani, si dimentica che l'Istat non fa distinzioni e mette dentro anche gli stranieri residenti che purtroppo sono poveri come gli italiani. Allora io non voglio polemizzare che ho l'onerevole migliore, però il reddito di inclusione... Adesso resti qui proprio per farlo. Come si, si, no, però venne introdotto dal governo guidato dal PD dopo che la proposta del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle stava raccogliendo così tanto consenso. È stato una specie di modo per tappare una falla, per dire, ah beh, loro vogliono il reddito di cittadinanza, allora noi creiamo il reddito di inclusione. È un po' meno, un po' diverso, eccetera, però anche noi abbiamo qualcosa. Quindi noi giustamente portiamo avanti il nostro progetto, che è un progetto ben preciso, per il quale poi ci sono tutta una serie di risorse già previste che permetteranno la copertura di queste spese. Allora, la replica sul punto... Posso chiedere solo quali? Dove sono queste risorse? Allora, l'abbiamo elencato, questa domanda mi è stata fatta decine e decine di volte in campagna elettorale e anche dopo, però non lo sappiamo. Cioè ridurre quelle che sono, diciamo così, le agevolazioni per banche, per assicurazioni, ridurre i sprechi di Stato, le auto blu, tutti quelli che sono, diciamo così, i privilegi dei politici, dei parlamentari. C'è comunque un elenco preciso che porta a 17 miliardi. No, a portare a 17 miliardi ci vuole un po'. Queste risorse, in modo da poter permettere di applicare... Allora, quanto però al reddito di inclusione, l'obiezione mi sembrava abbastanza puntuale, perché forse è stato un provvedimento tardivo da parte del PD, per il quale tra l'altro non è riuscito nemmeno a, come dire, riprendersi il dividendo elettorale. No, ma noi lo abbiamo fatto perché abbiamo valutato con quelle risorse di affrontare in una prima fase il problema delle persone al di sotto di un reddito effettivamente troppo basso. Il punto che io voglio sottolineare è questo. Noi abbiamo fatto i conti con un Paese che era in difficoltà aumentando la crescia. Il Movimento 5 Stelle sta portando questo Paese a un rischio di collasso economico che verrà pagato dai più deboli, perché è inutile girarci intorno. Ripeto, se c'è un trasferimento di ricchezza dai più poveri ai più ricchi, e questo avviene nei momenti di crisi, non si può dire quello che si sta dicendo. Quando un Paese come il nostro, per pagare sanità, pensioni, scuola pubblica, tutti i servizi pubblici, chiede sul mercato, perché questo è 400 miliardi all'anno, il fatto che con le dichiarazioni un po' strampalate del vostro governo si faccia aumentare il costo del debito di 5 miliardi, quei 5 miliardi, chi li paga? Li pagano le persone più deboli, perché chi ha la possibilità di avere forti capitali li investe all'estero. È chiaro o no che il problema nostro sono quelli che pagano le tasse? È chiaro o no che voi state proponendo un condono per coloro i quali le tasse non le hanno pagate, mentre invece lavoratori dipendenti, pensionati non avranno nessun beneficio dalle vostre politiche fiscali. Vorrei un attimo ritornare però a quanto sostiene Fitch nel suo report e le volevo domandare, quei giudizi così negativi sono frutto di un atteggiamento ostile un po' prevenuto dei potentati finanziari verso l'Italia o forse è anche un po' colpa di una maggioranza che tende a parlare tanto e forse un po' troppo sopra le righe? Allora io devo dire una cosa, noi avevamo messo in conto un attacco da parte dei poteri forti. Allora noi siamo di fronte a un governo del cambiamento, a un governo innanzitutto fatto da persone completamente nuove che non vengono dalla vecchia politica con tutti i privilegi, la corruzione che ciò comportava, a un governo che sta introducendo misure totalmente nuove, totalmente diverse, che è totalmente dalla parte del cittadino, ma noi avevamo messo in conto, ma questo è solo il sospetto, quello che sia solo il primo degli attacchi che riceveremo nel corso delle prossime settimane, nel momento in cui verrà presentata la legge di bilancio, ma è normale, le banche, le assicurazioni, che poi erano, diciamo, i poteri forti sostenuti dal governo guidato dal Partito Democratico. È chiaro che queste reagiranno e troveranno qualsiasi occasione per attaccare i contenuti della legge di bilancio che stiamo per varare. Questa è una cosa normale, è una cosa che ci aspettavamo, ma ancora ne dovranno venire, altro che solo un abbassamento di fiducia da parte di Fischi. Ne vedremo delle belle. Io mi aspetto che si esca un po' dalla campagna elettorale, me lo aspetto anche da chi ha avuto il privilegio di essere un grande giornalista e di aver inventato le old news. Le news non sono le fake news e siccome lei ha parlato di cose che sono fake news, per esempio la voce sprechi, non c'è nel bilancio dello Stato. La voce auto blu ci fa i 17 milioni, non 17 miliardi, ne devi fare altri mille. La voce che dice io sto dalla parte dei cittadini contro i privilegi è quella che dice innanzitutto che bisogna mettere al sicuro i risparmi delle persone. E onestamente io mi aspetto che lei con il suo partito, visto che stiamo parlando dei risparmi anche per i privilegi della politica, si è fatta una misura un po' propagandistica, però insomma era meglio la legge che avevo firmato io, sul taglio dei vitalizi solo alla Camera non al Senato. Bene, con quella legge si risparmiano circa 40 milioni di euro. Quando è che chiederete anche alla Lega di restituire i 49 milioni di euro? Perché è il vostro alleato di governo, non il mio, e sono più soldi quelli che sono stati sottratti alle casse pubbliche dalla Lega di quanti ne potreste presumibilmente, perché adesso ci saranno i ricorsi, risparmiare con il taglio delle vitalizi. Allora, la replica sul punto, poi vorrei aggiungere un ulteriore elemento. No, la replica sul punto parte da una considerazione. La considerazione è quella che abbiamo un, diciamo così, un contratto di governo con la Lega. È un contratto che sta portando avanti tutta una serie di punti che noi abbiamo condiviso, che stiamo condividendo. Io penso che dovremo innanzitutto dare la possibilità di scrivere questa legge di bilancio. Quando poi l'avremo letta e avremo visto i vari punti della legge di bilancio, potremmo dire se va bene o non va bene, perché altrimenti stiamo sempre parlando di sospetti e di accuse. Per la parte ci faremo diremo che non va sicuro a nessuno. C'è sicuramente in corso una trattativa tra Movimento 5 Stelle e Lega su quale siano le priorità da finanziare. Poi c'è una trattativa tra l'Italia e l'Unione Europea rispetto ai vincoli di bilancio. Sentite cosa ha detto proprio questo fine settimana il sottosegretario Giorgetti. Poi ne parliamo. Se non ci fosse stato Draghi l'interpretazione elastica dei trattati perché chi difende i trattati dell'Unione Europea deve sapere che Draghi sta agendo quasi in violazione dei trattati. Quindi vuol dire che i trattati devono essere cambiati quando è necessario cambiare. Allora, migliore, riparto da lei perché il tema della revisione dei trattati e delle regole era stato anche un obiettivo di Matteo Renzi quando diceva sbattere i pugni sul tavolo ottenere più flessibilità. Ma noi l'abbiamo ottenuto a più flessibilità. La differenza è questa che noi siamo andati con un programma di riforme credibili e abbiamo ottenuto più flessibilità altrimenti i 20 miliardi che abbiamo ottenuto di flessibilità non li avremmo mai ottenuti. Il problema è la credibilità delle riforme che vengono proposte e tra l'altro mi fa piacere che Giorgetti adesso consideri Draghi un amico visto che era stato sempre considerato il potere forte dei poteri forti invece è evidente che c'è stata una politica non in violazione dei trattati ma capace di interpretare anche il momento di crisi che il banchiere centrale europeo europeo con l'euro ha protetto anche i paesi più esposti che in virtù di politiche dissennate come erano state quelle dei governi di centrodestra aveva portato il nostro paese sul baratro però faccio notare che prima sui 49 milioni della Lega Carelli non ha risposto perché non mi si può dire non fanno parte del contratto spero che diciamo i reati non facciano mai parte del contratto allora lo dico subito non fanno parte del contratto ed è un problema che riguarda la Lega che dovrà risolvere la Lega io ribadisco sempre il Movimento 5 Stelle non è alleato con la Lega ha fatto un contratto di governo per poter governare il paese perché era l'unica maggioranza che i numeri consentivano in quel momento almeno le parole di cui siete alleati di governo tanti osservatori ritengono che al di là del fatto che il Movimento 5 Stelle abbia un consenso doppio un peso parlamentare doppio rispetto alla Lega soffra di una sorta di subalternità nei riguardi della Lega e della capacità mediatica del suo leader Matteo Salvatore allora io leggo tutti i giorni i giornali allora mi creda cioè leggendo tutti i giorni i giornali si vede come ogni giorno i titoli e gli articoli tendono sempre a dire Salvini, Di Maio litigano tra di loro io assisto alle loro chiacchierate c'è un rapporto ottimo un rapporto di fiducia un rapporto schietto trasparente se ci sono problemi si dicono si parla di questi problemi non è vero tutto questo che viene detto come quello che viene detto all'interno del movimento che c'è una fronda contro Di Maio eccetera ma non è assolutamente vero c'è una normale dialettica all'interno di un movimento che ha raccolto il 32,5% dei voti alle ultime elezioni quindi milioni e milioni di voti e naturalmente che ha molte sfaccettature che dialogano tra di loro ma questa è una cosa normale lei dice che non c'è una fronda all'interno del movimento 5 Stelle però ha colpito tanti la freddezza con la quale Luigi Di Maio non ha difeso Roberto Fico preso verbalmente a schiaffoni da Matteo Salvini quando ha detto faccia il suo mestiere ma questo fa anche parte sempre della dialettica all'interno di una maggioranza no? ma non è che Di Maio è il difensore di Fico quindi a proposito di Fico proprio questa sera Fico sarà ospite alla festa dell'unità può essere un interlocutore di quella nascente nuovo centro-sinistra? beh diciamo che la festa dell'unità a differenza di feste di partito o di giornali vicini a un partito come il fatto preferisce avere un'interlocuzione e anche in questo caso noi abbiamo preferito avere un'interlocuzione con rappresentanti del Movimento 5 Stelle avevamo invitato anche Di Maio che si è sottratto Di Maio si fa solo intervistare senza contraddittorio anche in queste trasmissioni lo ha fatto dappertutto teme di confrontarsi e io penso che invece un partito no è così quale è stato l'ultimo confronto appunto è proprio questo sto parlando di Di Maio capisco che uno ciascuno risponde da sé ma il confronto che abbiamo ospitato è stato un confronto per quanto Aspro assolutamente civile e di questo ringrazio tanto Emilio Carelli quanto Gennaro Migliore il nostro tempo purtroppo è finito restate con noi perché dopo il break le informazioni sul traffico Mambo Italiano Grazie a tutti